Bene, dopo la forte ondata di freddo che ha investito soprattutto il centro-sud della penisola tra il 5 e il 10 di gennaio, con eventi nevose di notevole entità, soprattutto purtroppo sulle regioni del medio adriatico, quindi anche sulle aree terremotate, c'è in vista un'altra forte ondata di freddo, forse la più forte in assoluto perché sarà la più lunga ondata di freddo dall'inizio dell'inverno perché durerà dal 13 fino al 21-22 di gennaio e per di più sarà particolarmente intensa questa volta sul nord Italia e sulle regioni del medio adriatico, un po' di meno sulle altre regioni, in particolare sulle restanti regioni meridionali. Ovviamente l'ondata di freddo porterà anche neve nella giornata del 12 quando si affacerà il primo nucleo d'aria più fredda, diciamo nevicate sulla Lombardia, Piemonte e Venezia e poi le nevicate via via nei giorni successivi le ritroveremo ancora su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e probabilmente tra il 16 e il 20 quando arriverà un secondo nucleo di aria ancora più fredda, le nevicate interesseranno prevalentemente le regioni centro-meridionale fino a quote collinarie e localmente fino alle coste. Bene termino qui, un caro saluto ancora da Maria Giuliaci.